Pronti? Uno, due, tre. Buono stavolta il segnale, ha girato benissimo Uliassi, quindi si porta al comando l'allievo di Daniele Cuglini in seconda posizione a Leante Regal, poi Belba Baggins in terza posizione lungo la corda, la mette subito sul ritmo, il figlio di Classic Photo e passa nettamente in vantaggio. Dopo il 15-8 dei primi 200 metri, all'esterno è rimasto Done Dalvio, la cui schiena viene presa da Actaro P, poi all'esterno anche Victory Power, intanto 400 in 31, da parte di Uliassi, Agliante Regal, Belba Baggins, poi vediamo Bemonciak SM, quarto alla corda, 600 metri che vanno via in 46,9, con Uliassi che ha una decina di metri di vantaggio su Agliante Regal, Bemonciak SM, questo è il treno interno, mentre la fila esterna è capeggiata da Done Dalvio, tanto giro in 1, 1, 7, 14, 8, la frazione di là, siamo mai al compimento del primo chilometro passato da Uliassi in 1, 16, 9. Secondo passaggio davanti al tribune, Uliassi, poi la pariglia a Leante Regal e a Done Dalvio che ormai comincia a dare segnali di crisi, allora Maurizio Chieri sposta Actaro P e in terza ruota, la sua schiena è presa da Victory Power ma fan fatica venire sui cavalli da dietro perché un po' perché si è ripreso a Done Dalvio, un po' perché Uliassi mantiene buon ritmo, ancora la curva è passata in 15, 4, retta di là con Done Dalvio che si è riorganizzato e ora va a dare anche un severo attacco al battistrada e sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione, a Done Dalvio sembrava in crisi al passaggio invece ora sta per passare il comando a 350 metri dalla fine, in difficoltà Uliassi, mentre provano a venire sugli altri, a Done Dalvio ha preso buon vantaggio, 14,7 l'ultima curva, ancora in vantaggio l'allievo di Gennaro Amitrano, vediamo a largo di tutti che ci prova Byron Derronco, poi anche il numero 7 di Bemonciac che trova un varco ma a Done Dalvio alla fine riesce a difendersi da Bemonciac che è finito a velocità doppia ma ormai era tardi e può essere soltanto secondo, bella corsa in percorso esterno se l'hai guadagnata tutto il figlio di Gorfont, lo vediamo qui un po' in crisi gli ultimi metri ma ne aveva ben donde dopo l'ostico percorso a largo ma ha preso vantaggio decisivo e Gennaro Amitrano lo porta alla vittoria, mentre Bemonciac finisce fortissimo ma può essere solo secondo al terzo, il numero 10 di Byron Derronco Grazie a tutti